Salve buongiorno a tutti oggi le informazioni sono le seguenti quindi oggi è 18 luglio allora per tutti coloro che vorrebbero le mie previsioni gratis e che io ovviamente non ho più nessuna intenzione di pubblicare adesso mi sistemo la frangia allora praticamente dovrebbe funzionare così allora io vorrò far crescere questo canale che vedete il canale mio di youtube che dovrebbe avere come minimo non 600 iscritti ma 6 milioni secondo me ovviamente questa è la mia idea poi magari mi faccio dei film ora dato che io sono l'unica sulla piazza a garantire i numeri anche se qualcuno può arricciare il naso e dice che non è vero ma io sono l'unica, chi mi conosce sa che così sono anni che sono su youtube io le previsioni d'ora in poi farò dei video privati i video privati saranno messi nelle previsioni in modo che può entrare solo chi è iscritto è iscritto vuol dire che se io vi mando un video privato dovete avere la vostra mail con l'iscrizione di youtube credo se sono in grado di farlo non lo so farò dei video privati anche su tiktok per dare diciamo delle previsioni private non so se posso farlo ma vedo che ogni tanto c'è scritto account privato quindi vuol dire che si può fare ma io vorrei le iscrizioni qua dato che nella vita c'è un dare avere no quindi io do e voi mi date non c'è solo prendere e basta comunque l'argomento sarebbe da trattare lungo è un argomento che ho già fatto da tanti anni non dico che facciamo un braccio di ferro ma poco ci manca anche perché vedo che voi giocatori avete diciamo tutti la stessa idea personale di non iscrivervi perché poi io ho visto che ho 177.000 visualizzazioni quindi è una regione intera un paese intero un paese grande voglio dire un sacco di gente viene a visualizzare i miei video e non fate le iscrizioni quindi da oggi io farò dei video privati e il video privati può entrare solo chi è iscritto a youtube con la mail perché poi ci vuole la mail per entrare insomma funziona così bene questo è tutto io vi auguro una strepitosa giornata ciao e grazie